Bellissimi, è uscito l'aggiornamento, ho scaricato tutto, ci siamo, siamo live! Schermata di caricamento top, reazione all'aggiornamento, 193.000 punti stella! Ma che state a dire? 193.000 like a questo video se siete naipe, prima di cominciare per quelli che verranno al look eccetera, finalmente ho le date ufficiali. Allora io ci sarò venerdì sicuro, sabato e riparto domenica, quindi se magari siete solo uno di questi giorni seguitemi su Instagram, trovate il link in descrizione, passateci, Instagram se il follow è gratis perché vi terrò aggiornati nelle storie sui miei vari spostamenti eccetera. Ma quello che vi può interessare, ovvero il firma copie, ufficialmente sarà sabato 30 alle 18.30 all'oratorio San Giuseppe in piazza San Martino? Mi sembra di sì. Per quanto riguarda il discorso Luca, aggiornamento. Il like che ve l'ho chiesto, l'iscrizione, l'iscrizione in tempo reale è gratis, attivata la campanella e codice Grax. Pigliamose tutto e vediamo quello che è cambiato. Sto in hype, clicco. Oh my god, fermi! Sono già a livello 14! Da paura! Grax, nuovo livello 14 così! La schermata sotto è bellissima, quindi possiamo andare a fare le prime partite da livello 14! Oh my god, regà! Altri like se volete l'apertura di tutti i bauli. Li apro tutti, boys. Dipende solo da voi. Guardate quanta robetta c'è. Negozio. No, ci sta l'emoticon di Halloween, quella la voglio. Però non lo shoppo, ragazzi, perché... Ma scusate, ma qui vedanno... Tutte leggendarie, scusate, tutti eroi garantiti? Non ci posso credere. Mi raccomando, ragazzi, se shoppate, io intanto prendo loro gratis, nel dubbio, codice Grax. Io non shopperò, ve lo dico, utilizzerò solo la roba del pass, ci vorrà un pochino. Le terremoto le prendo, ovviamente, e non so se mi conviene prendere altro. Al momento, un attimo, andiamo sotto. Il codice Grax, se vi ricordo, scade una volta a settimana. Ricordatevi di inserirlo, perché sul Royal funziona al momento in cui shoppate il pass, al cambio a origemme, ma anche alle offerte costo euro. Quindi qua funziona il codice. Se volete supportarmi, potete farlo. Non sono più maxato. C'ho 14 trocchi su 20. C'ho un sacco di robetta, però qua mi servono i jolly. C'ho solo un jolly. Dobbiamo sbrigarci a prendere 6 jolly per fare instant il log. Ovviamente non mi conviene col libro, dei libri, perché mi sembra che il libro dei libri dovrebbe funzionare anche sugli eroi. Ma se io vado sotto? Ragazzi! Calmi! Da trovare! E se lo trovassi qui? Attenzione! Ritorna l'hype per i bauli! C'è stava niente. Purtroppo non c'è la roba del pass, ho aperto tutto. Se no sarebbe stato incredibile. Vabbè, sarà il prossimo pass. Il baule è quello super cangiante e lo lasciamo. Ora, qui abbiamo la war. Nel clan... Eh, bisogna tornare a donare... Diciamo, con consapevolezza. E io comincio a richiedere che cosa? Non lo so, in realtà avrei i jolly da dare. E arriveranno i video sul domatore 14, non vi preoccupate. Un sacco di roba. Però, secondo me, dato che le prime due carte che farò saranno domatore e probabilmente il moschettiere... Comunque, regà, costa più carte. 1250? Ma non erano mille carte rare? Mi sono perso qualcosa? Servivano 1250 carte per potenziare una carta rara. C'ho un bug mentale, probabilmente sì. Scusatemi. Comunque, i jolly li andrò a dare a domatore e moschettiere. Ne ho 1100. Quindi non mi bastano. Allora, posso andare a richiedere il moschettiere. Comincio subito col moschettiere, perché è la seconda carta che andrò a fare. Davvero molto, molto importante. Andiamo a fare le prime partite. Ho visto tutto. Vediamo se c'è qualcos'altro nelle notizie. Ah, c'è il teaser che è bellissimo. Ma una cosa molto fast, eh. Lo vediamo così senza cambiare schermata. Se riesco a metterlo a tutto schermo. Eccolo. Dai, è carinissimo, ragazzi. Un attimo che bello alzo. Mamma mia, è pazzesco. Ma come? Le labbra a culo di gallina, si dice. Ma no. Potentissimo. Ma che spettacolo è. La queen è rotta, ve lo dico. Ma basta con i placenti. Spettacolo, ragazzi. Spettacolo, mamma mia. Skeleton King. Cavaniere Gold. Che potenza. Probabilmente non avete sentito niente perché era tutto a palla. Ma va bene. Un attimo che ritorniamo sul Royale. Questo è un video reazione. Boni. Perché adesso andiamo a giocare. Che è successo? Ah, certo. Posso aprire i bauli. Lo faremo in un altro video. Calma, non vi preoccupate. What the hell? Cioè, quindi. Se sbloccate la carta. Wow. Appare nel. Ma certo. Sarà tutto il clade intasato. Dagli eroi. Ragazzi, vado. Prima partita. Da livello 14. La facciamo con il 2.6. Andiamo a prendere gli schiaffi. Andiamo a prendere gli schiaffi. Magari faccio una col 2.6. Una anche con il deck di ciccio. Una e una. Livello 14 contro livello 14. Eh, ma io non ho potenziato niente, ragazzi. Cioè, se questi hanno le fireball al 14. Ok, golem al 13. Va bene. Poteva andarci peggio, eh. Poteva andarci molto peggio. Potevo mettere lo spiritoio del ghiaccio. No, regà. Lo spiritoio del ghiaccio contro gli schiaffi. Il 14 mi sa che non li killa. Non mi ricordo. Mi sa di sì, però. Mi sembra... Iiii. E mo' qui l'anna di fireball? È per forza. Maro, regà. Questo sarà un disastro. Corri, corri, corri con gelino. 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 Devi fare solo una hit. 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 E ne ha fatte due, mi sembra. Però con le torri al 14 reggiamo leggermente di più. Tocca potenziare tutto, ragazzi. Bisogna potenziare tutto. Questo c'ha già il bombarolo. C'ha un sacco di roba. Ho fatto parecchi danni, ma... Come le butto giù le torri al 14 senza il domatore. Ragazzi miei. E soprattutto... Cioè, senza investire sul 2.6 con il nuovo meta degli eroi... E' un altro gioco. E' totalmente un altro gioco. Io non so cosa fare. Metto un attimo un golem del ghiaccio. Mi servirà la fireball probabilmente sul pirotecnico. E considerate che lui c'ha la torra a 1999. Tutti quelli che so del 1999 lo scrivano nei commenti. Allora, la pyromo questa. Come la butto giù? C'ha pure la mongolfiera. Il problema grosso è quello. C'ha pure la mongola. Qui vado di log. Cerco di indebolire. Se riuscissi potenzialmente a buttare giù la pyro sarebbe qualcosa di assurdo. Metto un altro moschettiere che potrebbe darmi supporto. Ma de che regà? Mi son fatto attivare la centrale. Tanto ho perso la torre. E... Mamma mia. Certo. Torre al 14. Qui centrale al 14. Il domatore al 13. Neanche... Insomma. Non regge. Riesca a tirare un loghetto. Sì. Mi sarebbe piaciuto un danno in più. Però lì ho già un attimo depotenziato il golem. Là c'è stata la night witch. Mi conviene mettere il golem the ice. Per fermare il bombarolo. Tiro pure una fire palletta. Probabilmente l'ho tirata da schifo. Però bisogna anche accontentarsi nella life. Devo tirare un log molto goliardi. Che ho perso probabilmente. Non ho perso la torre. Oh my god. Partita incredibile subito. Oh. Ma questo sta a mettere il golem. Ma non c'è spell? Ma non ha spell il ragazzo? Dagli devi fare palla. Dagli devi fare palla. Come non c'è spell? Non ci credo. Ma non può non avere spell. Non può non avere spell. Non può non avere spell. Non ci credo. Corri. Porca miseria. Il golemita non ci credo. Era la top giocata nel mondo. Però non poto fare altrimenti. E mo che faccio? E mo me la peggio in quel posto. Perché lui mette il golem. C'è la mongolfiera. Non devo prendere quei danni in più probabilmente. Ho preso forse un dannetto di troppo. Comunque il log mi piace. Perché poi forse quella per palla riesco a togliere. Pure la night witch. Perché è livello 13. Se carica dietro. Li riesco potenzialmente a pulire. Ma questa signorina qua non la fermerò praticamente mai. L'ho fermata. C'è pure il log. C'è pure il golem di ice per fermare il pyro. Ma mi fa una marea di danni. Si fermi signor sasso. Signor rolling stone si fermi. Ok. C'è possibilità di vincere un match di questo tipo? Secondo me. Ma neanche se pago. Però quella l'ho tolta. Potrei togliere il log e fermi questo da sinistra. Corri di log. Corri di log. Corri di log. Corri di log. Gli ho fatto una hit. Ferma tutto col golem del ghiaccio. Si. Non riesco più a parlare. Regà. Perché è un partitone incredibile. Non ce credo mai che. Marore che è la prima partita di livello 14. Assurda. Non ho preso la pyro. Non ho preso la pyro. Uno. Due. Ti prego. Due. Regà. Impazzisco. Vi giuro posso impazzire. Non succede. Ma se succede impazzisco. Congela tutto. Fireball. Potevo pure non fireballare. Ma. Meglio farlo. Oh my god. Oh my god. Ciclala fireball. Ciclala fireball. Ciclala fireball. Ciclala. Non ho hitato. Ma posso ciclare comunque. Corri Crax. Oh my god. Che sto a fare. Oh my god. Che sto a fare. Ho vinto. Ho vinto. Mi da pure le monete. Lasciate un like. Iscrivetevi. Campanella. Questa era la prima da livello 14. Impazzisco. Devastante. Non si è saco vinto. I bauli saranno top. Ne facciamo pure un'altra. Col deck. De ciccio. Tutto. Livello 13. Speriamo regga. Dai. Incredibile. Incredibile. Saia. Eccolo qua. C'ho pure la rotazione buona. Ma questo start è assurdo. Golem di Liseer. Ok. Eh. E io parto ragazzi. Mi dispiace. Ma lui ha messo la capanna a destra. Gli ha detto un po' male. Con tutti i punti stella posso stellarmi le carte. Fatemi sapere quale devo fare. Se devo fare quelle da tre o quelle da uno. Non lo so regga. Oh my god. Che inizio di stagione fuori di testa. Boni che c'ho pure la furia. Dagli gasse Crax. Dagli gasse. Dagli gas. Dagli gas. Vai. Spigni. 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 Togli tutto. Togli tutto il più possibile. Togli tutto. Togli pure la flemascina e quella da più problemi. Vai. Pulisci tutto. Ale. Regà. Regà. Se non c'è la zap stiamo a cavallo. No. Fermi. Zappala. Uh. Mi fermo qua. Mi fermo qua. Ma che video ho portato. C'era pure la queen. Fermi. Già potenziata. Questo è matto. Non ci credo. Like. Iscrizione. Campanella. Codice Crax in the shop. E noi ci becchiamo. Sabato 30. A Lucca. Alle 18.30. Se ci siete. Eccetera. E stasera è live. Oh my god. Sto sconcertato. Video incredibile. Video incredibile. Ragazzi. Ve voglio bene. E mo' non so che potenziare. Boh. Non lo so. Tutto ciò è assurdo ragazzi. Bacio. Codice Crax. Ciao belli. Ciao ciao.